Ciao Patrick! Prima impressioni? No, sto bene. Patrick, tu hai dato animo e cuore per la maniera del Milan, ci sei rimasto male? Vabbè, voi avete visto, quindi io non ho nulla da dire. Invece per questa nuova esperienza in Premier, quali sono le sensazioni, pensi che può essere il tuo trappolino di lancio? No, io sono pronto, sempre pronto. Stai carico Patrick? Sempre carico. Patrick, vuoi salutare i tifosi del Milan, i tuoi tifosi? Hanno già espresso tanto malumore per la tua partenza? No, vabbè, sinceramente leggere tutti questi messaggi mi ha fatto un certo effetto e vuol dire che allora ho lasciato qualcosa di positivo, quindi sono solo che contento e auguro il meglio ai tifosi del Milan e gli voglio un sacco bene. Ecco, come hai vissuto questi ultimi momenti? Patrick, ti abbiamo visto, io continuo a dirlo, sei stata una bandiera, un simbolo di questi anni al Milan. Fa quasi effetto pensare al Cutrone e non più giocatore del Milan, sinceramente. Perfetto anche a te? Sono perfetto anche a me, è la vita e vanno prese delle decisioni e niente, farò del mio meglio ovunque vada. Obiettivo Patrick, c'è tanti gol in Premier per conquistare definitivamente internazionale, Mancini ti ha sempre stimato tantissimo. Io adesso però penso ad andare lì, integrarmi bene e far bene. Grazie.